Cari amici, care amiche, sono qui per farvi gli auguri di buona Pasqua, nonostante il periodo non siano i migliori, comunque la speranza che questo finisca tutto presto c'è, quindi vi lascio alla dedica che vi sto facendo, una splendida Amazing Grace che sta sottofondo, ciao un bacione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti